Truffa e falso ideologico, sarebbe questa l'accusa che pende su Ornella Muti, indagata, come riporta tra gli altri Dago Spia, dopo aver dato forfe ad uno spettacolo di cui era protagonista al Teatro Verdi di Pordenone. Correva l'anno 2010, lo spettacolo era l'ebreo e l'attrice mandò un fax da Roma sostenendo, con tanto di certificato medico, di avere la raucedine. La serata fu ovviamente annullata, con conseguenti danni riportati dall'organizzazione del teatro, ma le cose si complicarono quando furono rese pubbliche alcune immagini che immortalavano la Muti ad una cena di beneficenza con Putin a San Pietroburgo, proprio nei giorni in cui doveva recitare al Teatro Verdi. Secondo la procura, l'attrice indusse in errore il suo medico curante e gli fece compilare una certificazione relativa ad una patologia inesistente. Il tutto per liberarsi dall'impegno e volare a San Pietroburgo. La prima udienza è prevista per il 15 aprile. La prima udienza è prevista per il 15 aprile.